In questo video vediamo i primi semplici problemi sulla quantità di moto. Due bagnanti stanno nuotando, il primo si dirige verso il largo a nord nuotando alla velocità di 0,5 metri al secondo, il secondo di massa 68 kg nuota verso est alla velocità di 0,62 metri al secondo. La quantità di moto totale dei due nuotatori è 55 kg per metro al secondo. Qual è la massa del primo nuotatore? Qui dobbiamo considerare la quantità di moto del sistema perché viene fornita la quantità di moto totale dei due nuotatori, ma vediamo le indicazioni del problema. Il primo nuotatore sta dirigendosi verso nord, mentre il secondo verso est, ma la quantità di moto è massa per velocità, è il prodotto di uno scalare per il vettore, perciò se questa è la direzione e il verso della velocità 1, questa sarà anche la direzione verso della quantità di moto 1 e questa in analogia è la quantità di moto del nuotatore 2. La quantità di moto totale del sistema, il cui modulo è fornito ed è pari a 55 kg per metro al secondo, è dovuta alle due quantità di moto, quindi è una somma vettoriale tra questi due vettori, che qui noi possiamo realizzare in modo facile, graficamente, utilizzando la regola del parallelogramma. Abbiamo ottenuto qui due triangoli rettangoli, perciò dal momento che la quantità di moto totale è l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, mentre i cateti sono P2 e P1, noi possiamo scrivere molto semplicemente che la quantità di moto totale è ricavabile dal teorema di Pitagora come P1 al quadrato più P2 al quadrato. Noi conosciamo M2 V2 e V1, ciò che viene richiesto dal problema è M1, ma P1 è M1 V1 e P2 è M2 V2, sto scrivendo solo i moduli, quindi qui possiamo sostituire scrivendo M1 V1 al quadrato più M2 V2 al quadrato. Per comodità facciamo il quadrato e quindi scriviamo che la quantità di moto totale al quadrato è uguale a M1 al quadrato V1 al quadrato più M2 al quadrato V2 al quadrato. Così non abbiamo il problema della radice quadrata, abbiamo la nostra incognita e possiamo scrivere M1 al quadrato V1 al quadrato uguale quantità di moto totale al quadrato meno M2 al quadrato V2 al quadrato. E a questo punto, dividendo per V1 al quadrato e facendo la radice quadrata, otteniamo M1 uguale radice quadrata di quantità di moto totale al quadrato meno M2 al quadrato V2 al quadrato fratto V1 al quadrato. Come detto, abbiamo già tutti questi dati, possiamo ricavare M1 che è pari a 71 kg. In un tipico tiro del golf, la mazza è in contatto con la palla per circa 0,001 secondi. Se la pallina di massa 45 grammi acquista una velocità di 67 metri al secondo, stima il modulo della forza esercitata dalla mazza sulla palla. Ho trasformato i grammi in chilogrammi e ho scritto il delta t come un millisecondo perché questo è 10 alla meno 3. Nel video precedente abbiamo definito l'impulso e abbiamo visto che l'impulso è uguale alla variazione di quantità di moto. non lo sto scrivendo in forma vettoriale, ma solo con i moduli e quindi abbiamo visto che F per delta t è uguale a M per delta v. Nel nostro caso v iniziale è uguale a 0, quindi delta v è uguale alla velocità finale che qui è fornita. La domanda è qual è la forza? Dobbiamo stimare questa forza. Bene, la forza è M per delta v, in questo caso M per v, diviso delta t. Abbiamo i dati a nostra disposizione, 45 per 10 alla meno 3 chilogrammi per 67 metri al secondo e qui abbiamo il tempo, possiamo fare questa semplificazione, dobbiamo fare solo 45 per 67. L'ordine di grandezza è 10 alla terza, abbiamo 3 chilo newton. Un altro problema sportivo, qui abbiamo il giocatore di pallavolo che effettua una schiacciata, la velocità della palla passa da 4,2 metri al secondo a meno 24 metri al secondo. Il meno ci dice che la velocità cambia verso rispetto alla velocità iniziale. Abbiamo anche l'impulso, sappiamo che l'impulso è pari alla variazione di quantità di moto, che è uguale a M per delta v, cioè M per velocità finale meno velocità iniziale. L'incognita è la massa, che possiamo ricavare facendo impulso fratto differenza delle velocità. Attenzione ai segni, qui abbiamo meno 9,3 chilogrammi metri al secondo e poi attenzione qui abbiamo meno 24 meno 4,2. Il risultato che otteniamo è chiaramente in chilogrammi ed è positivo. Otteniamo 0,33 chilogrammi o possiamo scrivere che la palla ha una massa di 330 grammi. Rimaniamo sempre in tema di sport e questa volta passiamo al basket. Un giocatore lancia un pallone di 0,60 chilogrammi sul pavimento. Il pallone colpisce il suolo con velocità 5,4 metri al secondo che forma un angolo di 65 gradi rispetto alla verticale. Se la palla rimbalza con la stessa velocità e lo stesso angolo, qual è l'impulso che le imprime il pavimento? Qui c'è una rappresentazione del pallone che ha un angolo alfa rispetto alla verticale, quindi questo è alfa. La palla rimbalza con lo stesso angolo quindi anche questo è alfa e questo è v2. Dobbiamo ricavare l'impulso. Il modulo di v2 però ci viene detto che è uguale al modulo di v1 quindi dal punto di vista del modulo queste due velocità hanno lo stesso valore. Se consideriamo le componenti v1x è rivolta verso sinistra e anche v2x e abbiamo in modulo che v1x è uguale a v2x. Per quanto riguarda la componente verticale v1y è rivolta verso il basso e v2y è rivolta verso l'alto. Cioè abbiamo che v2y è uguale a meno v1y. E ora fermiamoci a pensare. L'impulso è uguale alla variazione di quantità di moto. Dobbiamo utilizzare la quantità di moto perché abbiamo la massa e le velocità. Però visto che abbiamo scomposto il vettore velocità in componenti x e y facciamo la stessa cosa per l'impulso. La componente x dell'impulso che è la variazione di quantità di moto sull'asse x è uguale alla massa per velocità finale meno velocità iniziale. Ma queste due velocità sono uguali e quindi questo è uguale a zero. Invece sull'asse y facendo m per v2y meno v1y otteniamo che essendo meno v1y uguale a v2y abbiamo m che moltiplica v2y più v2y che vuol dire 2m v2y. E qui usiamo la trigonometria perché v2y è questa. Questo è il cateto di questo triangolo rettangolo. Questo è l'angolo alfa. Noi sappiamo che questo cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto. E quanto vale questo angolo opposto? È l'angolo di 90 gradi meno l'angolo di 65. Quindi è l'angolo di 25 gradi. Perciò scriveremo che v2y è uguale a v2 per il seno di 25 gradi. In alternativa potevamo considerare che questo angolo è congruente all'angolo alfa e v2y è uguale a ipotenusa per coseno dell'angolo adiacente. Quindi questo lo possiamo anche scrivere come v2 per il coseno di 65 gradi. Il seno di 25 gradi è uguale al coseno di 65. Il risultato è 2,3 metri al secondo. Pertanto l'impulso, dal momento che la componente x dell'impulso è 0, sarà uguale alla componente y dell'impulso. Vi ricordo dovremmo fare che i è uguale alla radice quadrata di i x al quadrato più i y al quadrato. Ma questo è 0 e quindi abbiamo questo risultato. Cioè l'impulso è 2 volte la massa per questa velocità. Il risultato è 2,8. Possiamo esprimerlo in kg per metro al secondo oppure in newton per secondo. Termina qui questo video. spero vi sia stato utile. Non dimenticate di lasciare un like. Nel prossimo video parleremo di conservazione della quantità di moto. Pertanto io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao!